buongiorno a tutti dal mix siamo venuti a salvare gli ultimi dalla pioggia dai oggi verso mezzogiorno lunedata pioggia torrenziale ma loro sono qui dai li salviamo belli estivi estivi incredibili guardate che roba arrivano i big 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 eccoli qua estivi incredibili guardate che roba mamma mia guardate che estivi l'altro da prendere la costina era questa più o meno guardate quello per me guardate che big estivi big 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 estivi ragazzi dei big big estivi mezzo ok pochi dai ma estivi di marmo ragazzi guardate che roba va bene dai ci siamo spostati di zona perché ormai le zone sono in esaurimento è finita per adesso poi vedremo se qualcosina c'è fuori ancora però qualche pezzo via il maca via il maca via il mace Grazie a tutti. Loro sono lì, ci siamo dai, fatto dimenticato, bello, guarda che non è andato questo, ah no, è piantato. Ah no, ecco, ecco. E arriva il fungo del giorno, dai guardate che bello che è. Grazie. 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 Ancora fuori, ancora fuori un istante, sia mesi quasi che fa fuori questo posto. Guardate lì sotto cosa c'è. Guardate lì sotto. Mamma. Vedete dai un giro di tre stavolta qua sul costino. Guardate qui, guarda giù, forse uno di quello. Vediamo. No, questa è una manita. Mamma che stivi, mamma, che belli. Uno, lo mettiamo vicino alle piastrelle rotte. Due, mamma anche questo che duro, mamma che belli. Due, 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 due. Questi pianetti qualcosa regalano sempre, 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 sempre. Anche su un pezzo qua. Guardate. Ecco, scalciato l'altro. Va bene. Ecco sotto il foglio. Vediamo il giambo. Forse il giambo non c'era. Va bene. Un altro fungo che merita, merita, merita davvero. Guardate un po'. Che bello. Ancora, ancora, ancora fuori. Guardate questo estivo qua. Che cos'è? Allora c'è un estivo bomba, 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 bomba. Guardate che roba. Allora, quanto fu questo piccolino, mi l'ho filmato perché pioveva. Però, qua c'è un altro, guardate. E' bello. Mi è già capitato quest'anno di filmare un porcino sotto una manita. E' fantastico, una cosa incredibile. Ma guardate questo, che compietta. Guardate che cosa. Ma che cosa, eh. Fantastici. non disturbiamo la manita. Vediamo. Ecco. Prendiamo l'altro. Estivi da paura, ragazzi. Da paura. Mamma, mamma. Mamma, ragazzi. Che fungo. Che fungo, ragazzi. Guardate che roba. E ho raccolto qualche fungo. Mi sono cambiato anche la cappotta. Vedete che è di clora diverso. Ma non ho filmato perché sta piovendo. Veramente forte. Ma questo, non posso non farvelo vedere. Guardate che... Ma che cosa, guardate che... Duro come una pietra. Guardate che fungo. Mamma mia. Un red. Un red pesco. E' ancora funghi, ragazzi. E' ancora estivi. Qui più sotto, dove ho trovato quei tre giganti. Guardate un po' ce n'è uno qua. Bello. Guardate che bello. Non ci vedo uno là. E' il primo che ho visto è questo. Questo forse è un edulis. Questo è un edulis, credo. Dove va il gambo? Mamma, guardate il gambo dove va. Tutto sotto terra. Va bene. E' l'altro qua sotto. Qua sul ripido del canale. Vediamo com'è. Potrebbe anche... No, a niente. Va bene, dai. Uno qui, guardate. Pieno, 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 pieno. Imballato di estivi. Oggi i funghi fanno la gara di bellezza. Cioè c'è uno meglio dell'altro. Guardate questo qui. Che roba. Incredibile. Guardate cosa hanno questo fungo. Guardate sotto. Incredibile. Ma che funghi, ragazzi. Ma che funghi. Guardate che roba. Guardate che cosa. Pazzeschi. Guardate. Guardate. Guardate, TA- Guardate ecclo. Guardate.